Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika Sì, allora prima di tutto vi voglio ringraziare perché chi avrà visto, chi mi segue anche su Instagram insomma, grazie perché sono arrivata a 30.000 spero che quando vedrete questo video sono ancora a 30.000 e non siano calati un'altra volta no vabbè, grazie a tutti quelli a voi che mi seguite con tanto amore, vi voglio un mondo di bene a tutti grazie, grazie e niente, cosa devo farvi vedere il borsone è ancora pieno insomma, tre mesi di assenza sto recuperando di brutto diciamolo bene altre cose scontate, altre cose meravigliose tutte puccioserie, insomma ragazzi così, la Nika è lei sé, lo dico in bergamasco lei sé allora, prima di tutto vi faccio vedere due cose che non c'entrano con la cartoleria cartopazia e poi faccio vedere tutta la cartopazia la prima cosa è questo mio marito piace, i Buddha ma anche a me non mi dispiacciono abbiamo preso questo è un euro e cinquanta se non sbaglio sì è quello che si illumina che cioè ci mettete le pile tatatata e lui si illumina come se non ci fosse un domani a regola ah ma forse le ha già dentro le pile vediamo un attimino come funzia questo aspettate tac scusate spengo tac vi lascio il buio tac vediamo se oh la fa solo di un colore sì, non pretendere Nika va bene tac tac adesso lo rispegniamo e ci mettiamo ancora il ferma batterie qua così ed è veramente carino sì, plastichina molle molle però è fatto bene bello che si illumina molto molto carino eccolo qua lo poggiamo qui la scatola penso che possiamo buttarla eccolo qua questa è una versione magra è Buddha magrolino non lo rappresentano tipo un po' più cicciatello non lo so io sapevo una leggenda non so se si può dire leggenda che se gli toccavi la pancia portava fortuna a quelli pancioni però è vero questo è magrolino beato lui niente magro ok l'ha passata facendo allenamento tanto in casa con palestra a questa quarantena allora apriamo anche l'altro perché ne ho preso un altro e questo è incartato perché è di ceramica sì eccolo qua e questo qua è una meraviglia assoluta anche lui è super mega wow è uguale a questo un pochino più alto c'ha un corno che gli spara di più in testa un punto bianco in faccia e no è bello mi piace rosa ed è veramente carino ecco passione dei Buddha adesso andiamo con quello che ci interessa a noi prima di tutto faccio vedere due cose belle grosse che poi le do subito a mia figlia perché sono per lei che a settembre facciamo così tra virgolette speriamo comunque qua ciao ciao Sharon è qua inizia il liceo farà il linguistico e siccome costavano 3 euro io ne avevo già preso uno appunto per la terza media che adesso sta filendo la terza media l'ha usato si è trovata bene non si staccano gli anelli rimangono integri e sono buoni quaderni giusto amore l'hai finito era buono come quaderno quaderno ecco siccome erano al 50% con 3 euro te ne venivano fuori i due e l'altro l'avevamo pagato 3 euro uno perciò ho detto glieli prendo così si li tiene via per settembre e sono questi così con le divisorie a righe e ci hanno appunto le divisorie per fare varie materie su un quaderno io ne ho presi i due aspetta che alzo un po' forse la visualization no così sto abbassando ecco e sono questi due così comunque la Tiger li trovate da un po' che ci sono adesso eccoli qua e se metti di via tienili con cura poi ho trovato altri due quaderni scontati sempre del 50% o non lo so se erano scontati comunque hanno buttato fuori un po' di cosine ancora del mio amore cricetonzo e perciò li ho presi i due a un euro sapete che uno di questi gialli io lo sto usando per quaderno dei saluti l'ho ripreso uguale perché è bellissimo e poi questo qua con tutti questi cricetonzi sono questi fatti così a righe bello 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 mi piacevano li ho presi i due quaderni si usano sempre poi vi faccio vedere un'altra cosina c'è un'altra cosina c'è la borsa piena però dettagli c'è questo che costava 50 centesimi ed è un una gedda settimanale che si possono staccare i foglietti da quello che ho visto capito voi ce l'avete lì scrivete le vostre cose poi vi staccate il vostro foglietto è fatto tipo a block notice c'era questo con la copertina verde con la copertina rossa però non so se c'era due fogli rosa in quella con la copertina rossa non lo so comunque beh questo vedete che ha tutti i giorni mi piaceva 50 centesimi ho detto prendilo Nika è tuo è lì che ti chiamo lasciamo i cricettini qua che si vedono ecco poi non potevano prendere questo che l'ho trovato perché l'altra volta avevo trovato solo il rosso e l'azzurro che faceva i pois e questo che faceva le labrucce e questo qua giallo fa le righine gialle e bianche appunto ecco e sono questi qua fatti come gli scolorini gli sbianchetti a nastro e legge di lasciare il bianco lasciano le grechine colorate ecco allora ho preso anche il giallo perché mi mancava non ho trovato il verde perché so che ci sono appunto quattro colori se non sbaglio e non ho trovato solo tre vabbè pazienza che a me piace non li uso preso e quello un euro poi ho trovato questa meraviglia qua tre matite con l'astuccio se non sbaglio un euro e cinquanta credo di sì che mi piaceva anche la scatoletta fatta così comunque per metterci le cosine le matite qualcosa insomma adesso andiamo a vedere com'è fatto vabbè c'è scritto comunque astuccio con matite tre matite semplici una fucsa una blu e una rossa e poi l'astuccio si apre così e ci sono altre matite ma non me le aspettavo scusate queste qua erano fuori però aperte ci sono dentro altre matite non lo sapevo pensavo che c'erano solo queste tre un euro e cinquanta e ci sono tante matitine tre quattro cinque otto in tutto bene ed è la scatoletta che si apre così questo astuccino poi potete usare anche la parte qua che serve per chiudere il coperchietto perché è un righello ed è fatta in legno aspettate che tolgo la silicia il foglietto delle istruzioni sì questa scatoletta qua mi ricorda un po' della dell'isciangai sì perché li avevamo in giro adesso non so se li abbiamo ancora da qualche parte sì comunque carina diventa un righellino matitine un euro e cinquanta buono mi piace poi ho ripreso queste che le avevo prese anche l'altra volta perché costavano un euro ho visto che sono buone e allora le ho prese e sono per chi non lo sa per chi non magari non ha visto l'altro video comunque vabbè se siete tornati la maggior parte di voi anche voi a tagli lo sapete che sono penne blu che si aprono così e un euro quattro sono non è male sono belline belli colori bello tutto poi aspettate ho ripreso anche questa che avevo già preso perché cinquanta centesimi è multicolori qua mi piaceva una cifra l'avevo presa l'altra volta due volte fa perché due volte fa già e questa c'è tutti i colori il nero il rosa il verde l'arancio il rosso l'azzurro e ci piace poi ormai chi lo sa il video della mia collezione di gommine è pronto non so quando lo vedrete non ci aggiungo dentro queste perché non ci riesco però ve le faccio vedere adesso perché le ho trovate a cinquanta centesimi e me le sono presa credo di avere preso solo quelle due lì aspettate un attimo che guardo nel sacchetto sì vi farò l'aggiornamento sì allora questa scatolina e poi se continuate a seguirmi vi troverete la notifica se attivate la campanellina del mio video di tutte le mie gommine che arriverà perché è pronto e qua c'è una scatoletta a forma di pesciolino dove ha dentro che carine queste tre gommine che una è la razza la manta non so come si chiami questa la balena e la tartarughina che carine troppo belle troppo belle troppo belle cinquanta centesimi scusate ma io queste scatolette non posso lasciargliele lì e poi quest'altra rotondina dove c'è fiorellini cioè sono vasetto questo è un vasetto con i fiorellini poi una bella rosa rossa e un tulipano rosa guardate che bello sono fatti veramente bene sono stupendi 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 non vedo l'ora di mettere nella mia scatolotta delle mie gomme poi adesso aspettate un attimino che tolgo il resto delle cose dal mio sacchetto sacchetto lo lancio adosso a Sharon e ho trovato delle altre non potevo lasciarli lì allora questi li ho trovati a un euro l'uno e sono hanno dentro tutti questi sticker sono quelli per il bolleggione per insomma per per fare la vostra agenda ecco e l'avevano già messi in passato però la copertina sotto a questi disegni e lettere era blu e credo che abbiano qualcosa di diverso penso proprio di sì io adesso ce l'ho sopra nella scatola non riesco a farvi vedere l'altro però li avevano già messi e questi sono la versione nuova da quello che ho capito allora hanno presi due perché costavano un euro e questi sono appunto tutti questi qua pieni di sticker questi libriccini qua tutti pieni guardate che belli che sono pieni di sticker veramente belli anche la donuts c'è guardate qua le emoji sì sì sono nuovi non sono così bellissimi con tutte le scritte to do vari banner le varie lettere per scrivere le lac sull'agenda e qua ancora banner qua bande colorate righe ad adesive bandierine insomma qua per fare tutto il to do le liste tutte le cornicette varie tanti belli stick sono tanti fogli adesso non so c'è scritto da qualche parte qua comunque sono tanti fogli e non mi dispiace ne ho presi due perché ho detto però qua non ci sono più perché va così finisce così da tiger vediamo se c'è scritto niente libro con adesivi per agenda personalizzabile basta non c'è scritto quanti fogli sono non so sto qua a contarti comunque ne ho presi due poi rimaniamo in tema di sticker erano ancora 50 centesimi perché gli sconti c'erano ancora adesso non so se finiscono il 31 maggio o se li prolungano un po' non ne ho idea e allora ho preso ancora questi a 50 centesimi poi ho preso un altro di questi qua con le farfalle perché mi piaceva con gli insetti idem questo perché questo qua non ce l'avevo dopo vi faccio vedere un attimo la mia scatola poi ho preso questo estivo che avevo già però l'avevo pagato un euro adesso l'ho pagato 50 ho ripreso un altro unicorno e un altro di questi che comunque 50 centesimi ci sta e poi ne ho trovati due nuovi però c'erano solo proprio questi due qua uno e uno non so se li hanno messi lì così li metteranno fuori ancora ok ma sono meravigliosi sono nuovi questi non li ho mai visti ed uno è questo è lo summer sono per l'estate magari ne hanno messi fuori proprio due così non lo so se saranno della collezione di giugno sempre che ci sia sta collezione di giugno arriveranno lo so e questo cioè guardate sono meravigliosi questi meravigliosi se ce ne erano altri ne avrei presi due due però hanno preso vabbè uno e uno ho trovato solo uno per tipo e basta proprio uno così e uno così il piccolo bradipino guardate che cucciolo attaccato all'anguria al ghiacciolo ma meravigliosi sono bellissimi peccato che ho trovato solo due però vabbè accontentiamoci Nica e poi vi faccio vedere un'altra cosa scontata del 50 e che cos'è agenda planner personalizzabile con stencil inclusi questa qua l'ho pagata 3,50 invece di 7 perché era il 50% e c'era verde e questo che forse dalla videocamera sembra rosso no si vede si capisce che comunque è un bel rosa ecco andiamo ad aprirla e vi faccio vedere i fogli che ha dentro perché sono i fogli puntinati del bullet journal è per quello che l'ho presa che rigende sono piena però l'ho presa perché dentro c'è anche gli stencil non so se si vedrà ma aspettate che e poi si ho preso anche i fogli e li volevo farvi vedere si si metti sotto il bianco non si vede niente vabbè non so se si vede sono proprio stencil non so se c'è un giro volevo farveli vedere bene e qua comunque c'ha vari banner dei cuoricini aspettate vediamo se non so il cricetonzo sotto così se riesco a e non si vede tanto comunque sono due pezzi di stencil dove qua ci sono alcune lettere scritte zampine caramella una farfalla e qua appunto lì banner è carina è molto carina gli anelli sono piccolini non so cosa ci potete però non è male non ha le tasche di qua ce l'ha solo di qua una taschina così e una così non è malvagia è carina non ha la chiusura rimane così però vabbè per 3,50 euro ho detto prendi la nicca prendila queste poi ti penti e c'è tutti già un blocco di fogli però ho visto che li vendevano e lo so che io ho iniziato con dei fogli bianchi la mia agenda quella che uso tutti i lunedì dove faccio il nostro play wet mi che lo facciamo insieme però ci voglio mettere dei fogli e penso che userò questi un euro a blocco e li ho presi sono puntinati li bolleggiurano non so se si vedono però li posso io li uso anche per la genga normale non mi interessa e ne ho presi 3 blocchi che vengono sempre buoni ce ne erano là già pochi perciò ho detto è meglio che li prendo e adesso vi faccio un attimino vedere aspettate abbiate pazienza abbiate pazienza che ho innumerevoli scatole piene di sticker perché chi mi segue lo sa che ha visto il mio aggiornamento sticker però adesso vi faccio vedere un attimino questa che ho voluto mettere un pochino tutti quelli bene o male di di tiger che poi ho anche nelle altre scatole ancora di tiger ma quelli fatti così adesso vi faccio vedere scusate è caduto tutto per terra ho comprato questa scatola qua dei lama 3,50 euro dai cinesi ho i dettagli e qua vedete che ho dentro di lato questi qua in 3d che ho preso anche l'ultima volta 50 centesimo ho preso ancora doppi lo stesso perché mi piacevano vedete che ho fatto il doppio anche del panda adesso questa volta ho fatto il doppio dell'unicorno la mica è fuori di testa ma non dite niente ho fatto finta di niente annuite si si e qua vedete che già avevo questo ma io sono andata a comprarmi un altro poi ho preso questi vabbè nuovi gli insetti li avevo già presi e questi qua sono quelli che ho non sono tutti quelli di tiger logicamente perché poi ho quelli di pasqua quelli di natale altri di tiger e questi qua sono gli innumerevoli sticker dopo alcuni sono anche usati ne ce n'è dentro qualcuno che gli manca però sono tutti quelli che ho di tiger e sono una marea c'è la pazzia portami via è un negozio un 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 io sono così sono il collezionista di tutto io cioè guardate ve li farò vedere c'è il mio video aggiornamento arriverà anche degli sticker degli washi tape dei paper tape di tutto e di e di post it ho sistemato anche quelli perché poi a breve andrò a fare anche il video della postazione e l'aggiornamento perché in tante me l'avete chiesto ma lo sapete che ogni tanto io durante l'anno lo faccio adesso devo farlo perché ho cambiato un po' di cose ho aggiunto delle scatole insomma ci tengo a farvi vedere tutte le mie cosine ecco tutto lì niente questo è un altro giro che ho fatto dal nostro amato Tiger spero di avervi tenuto compagnia ancora fatemi sapere sempre nei commenti se avete saputo ancora qualcosa della collezione di giugno cosa ci sarà se ci sarà se ne sapete più di me fatemi sapere che io sono qua pronta a leggere i vostri commenti e a rispondervi e vi do appuntamento a prossimo video bacioni dalla Nica e da Sharon che è qua ciao ciao ciao